Il generale Saverio Cotticelli, nuovo commissario ad acta della sanità calabrese e non sono tardate ad arrivare anche le prime reazioni. Tra queste quelle di Francesco Mingrone, segretario della Ust Cisle Magna Grecia, che augura buon lavoro al generale. Gli auguri di buon lavoro vanno anche a Thomas Schell, quale subcommissario. La sfida che gli aspetta, ha detto infatti Mingrone, è molto impegnativa. Il sistema sanitario calabrese presenta molte difficoltà, sulle quali molte volte come sindacato ci siamo misurati. Ma siamo fiduciosi su quanto andrà a fare il generale Cotticelli, perché se da un lato garantisce competenza in tema di sanità, considerati i suoi trascorsi, peraltro la sua persona è sinonimo di legalità. L'onorevole Francesco Cannizzaro si sfoga su Facebook, scura rimosso, ma i danni nella sanità calabrese non si contano, scrive. Una battaglia che abbiamo condotto senza sosta e di cui oggi non gioiamo, perché il prezzo salato di tanta incompetenza lo pagano i cittadini. Il neo sostituto non potrà fare miracoli, scrive ancora Cannizzaro sul suo profilo. Speriamo solo che rimetta al centro della sua azione la salute dei calabresi. E nell'attesa che torni al governo della regione la politica della concretezza, noi continueremo instancabilmente a vigilare. Sono soddisfatto di aver lavorato in Senato e in Commissione Salute, determinando la fine di un'epoca che non ha aiutato la sanità calabrese, è quanto afferma invece il senatore Marco Siclari, capogruppo di Forza Italia in Commissione Salute al Senato, che rimarca come sia stato incisivo il suo lavoro in Senato, permettendo di accendere da subito i riflettori su scura e sull'assistenza sanitaria in Calabria. Il commissario della sanità calabrese è stato invitato in Commissione a relazionare, quindi lo abbiamo audito, lo abbiamo ascoltato e ho sostanzialmente illustrato a tutti i senatori presenti in Commissione Salute e all'ingegnere scura da quelli che sono i veri dati che risultano all'Agenzia Nazionale, all'Agenas per la sanità regionale e quindi che risultano anche al Ministero della Salute. L'ho fatto anche portando in Commissione Oliverio, anche lì, per la prima volta della storia, un governatore della Regione Calabria in Commissione. C'era bisogno di verità, c'era bisogno quindi di conoscere veramente il diritto alla salute in Calabria, come veniva gestito dalla Commissione, dal commissario e quindi dal governatore. Siamo riusciti a far capire l'emergenza sanitaria in Calabria e quindi a convincere il Ministro della Salute a prendere una scelta. È questione di ore, la scelta è stata fatta e adesso dovranno ufficializzare probabilmente la nomina del prossimo commissario che è stato indicato dal governo, che fonti ministeriali confermano sia a Cotticelli. È chiaro che questo però è soltanto un primo passo, perché il sottoscritto ha chiesto la fine del commissariamento della sanità in Calabria. Magari ancora ci vuole del tempo, però certamente non si può ancora avere una Calabria commissariata. Il nuovo commissario avrà molto da lavorare e il sottoscritto avrà ancora molto da tenere accesi i riflettori. Non finirà con la revoca di scura, il nomine di un commissario e la mia attenzione verso la Calabria, continuerà ad esserci perché voglio conoscere quella che sarà la programmazione sanitaria del prossimo commissario, voglio conoscere quello che sarà il nuovo disegno di sanità calabrese che certamente dovrà essere fatto. Ringrazio i sindaci, ringrazio che sono scesi in piazza, ringrazio tutti i cittadini che hanno manifestato a supporto del diritto alla salute, ringrazio tutti i sindacati che hanno rappresentato i privati convenzionati, che sono stati trattati con poco rispetto, direi, da Scura con i suoi decreti, che sono stati bocciati ben tre volte dal Tar della Regione Calabria. Grazie.